Quando le è stato chiesto se conoscerla è stata una fortuna, lei ha risposto per qualcuno sì. Eh sì. E mi dice chi non ha capito che incontrarla è stata una fortuna? Non vorrei fare nomi per non essere scortese, però qualcuno non l'ha capito. Non mi diventi diplomatica tutto insieme stasera per la prima volta in vita sua. Beh, secondo me Tiziano Ferro non ha capito tanto. Perché secondo lei? Perché non ha pensato che sia io che mio marito l'abbiamo aiutato a essere quello che alla fine in parte è. Ma questo non è importante, non è che è d'obbligo avere della riconoscenza.